La chiamata che state per sentire è stata fatta da una bambina di 6 anni di nome Lisa Floyd. La bambina disperata chiama il 911 durante una lite tra sua madre e suo padrino. La bambina disperata chiama il 911 durante una parte della bambina disperata chiama il 911 durante una parte della bambina disperata. La bambina disperata chiama il 911 durante una parte della bambina disperata è vero? The police are on the way, ok? Hello? Lisa? The police are on the way, ok? Mom! The police are coming! My daddy's got the baby now! The police are on the way! Lisa? Hello? Anni dopo questa chiamata, Kit Gruel, che è un attivista il cui incarico è di aiutare le persone che hanno subito violenze domestiche, si interessò di questa particolare chiamata e decise di cercare la bambina. Fu una sorpresa spiacevole per Kit, trovare la bambina ormai donna, essere anche lei in una relazione violenta. Con l'aiuto di Kit, la piccola Lisa, tra virgolette, riuscì a porre fine alla sua problematica relazione. Questa chiamata invece è stata fatta nella città di El Salvador, sempre da una bambina. La bambina chiama il 911 perché vede la madre che viene aggredita da alcune persone. La cosa scandalosa in questo video è l'assoluta incompetenza dell'operatrice che invece di aiutare la bambina, entra nel panico più totale. Alò, buona, venga per favore a mia casa. Alò? Alò, venga a mia casa, per favore. De che numero stai parlando? Ah? De che numero stai parlando? De che numero stai parlando? De un cellulare. 70 30 70 Dio che ti fa? Il cale un uomo sta peleando con mia mami. Dio? No hai naiai naiai adulto che ti possa dare la direcciòn? Dio? 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 Sì quasi per la espoluta di Alta Vista No! No! Allò? 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 Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un bel pollice in su e a condividere il video con tutti i tuoi amici. Noi ci vediamo al prossimo video!